oh buongiorno a tutti direttina veloce alle 11 di mattina sono qui nel mio arem non c'è donne però c'è canne e terminali di tutto di più e vi volevo soltanto tanto vi rimane poi memorizzato il video per vederlo poi in seguito anche in questo caso qualcuno mi ha chiesto dice ma i piombi parlaci un attimino dei piombi da volentino eccetera eccetera io vi vorrei soltanto far vedere una piccola modifica che io faccio ai piombi e questo è molto molto importante tutti mi hanno chiesto ma come fai ma come non fai oh vedi saverio buongiorno save io faccio una direttina veloce sul piombo tanto te lo sai comunque poi ti guardo domani se non mi sbaglio o stasera no forse stasera dico bene stasera ti guardo vai se ti faccio un riassuntino allora piombi classici questi piombettini qua da volentino questo è un certo 30 grammi io uso dei piombi con l'anellino in acciaio inox eccolo qua anellino in acciaio inox ora vediamo un attimino la modifica che poi noi facciamo che cosa occorre per fare la modifica il piombo poi occorre delle girelline triple eccole qua girelline a trenino o triple poi ci servono degli anellini split eccoli qua split ring numero 5 io uso il numero 5 e poi ci servono delle comuni girelle con moschettone eccola qua questi ci serve questo piombo e queste tre cosettine qua cosa si fa all'anellino all'anellino ci mettiamo uno split io smonto un piombo in diretta che ho fatto ve lo smonto così vedete benissimo di cosa si tratta dopo lo smonto in modo che così capite levo questo termo restringente che io ci ho messo tanto poi ce lo rimetto e vi dirò anche come e perché ecco praticamente noi mettiamo la girellina nell'anellino ci mettiamo lo split e poi ci mettiamo la girellina tripla eccolo qua questo questo logicamente serve solo per farlo girare per quanto poi possa girare chi vuol capire mi capisca poi alla girellina smontiamo il nostro moschettone girella con moschettone eccola qua classica la smontiamo e prendiamo soltanto il moschettone togliamo la girella e la mettiamo nella girella tripla eccolo qua la mettiamo qua ecco qua vedete questo il moschettone attaccato alla girella tripla che io avevo messo al piombo ve l'avevo fatto vedere prima eccolo qua e ci mettiamo praticamente il il moschettone lo apriamo e lo mettiamo dentro e lo richiudiamo pochina di manualità delle pinzettine e serva tutto fatto questo fatto questa operazione ovvero sia montato il nostro piombo prendiamo del comune termorestringente eccolo qua c'è anche colorato se uno lo vuole più bellino o nero altrimenti cambia nulla cambia niente si mette a coprire l'anellino di gomma l'anellino scusate del d'acciaio inox del piombo copriamo lo split e copriamo il primo stadio della girella trenino eccolo qua coperta con un accendino lo scaldiamo il termorestringente si aderisce sul tutto e chiude questo diciamo spazio che potrebbe essere potrebbe essere un punto di appiglio del nostro bracciolo nel caso usiamo un bracciolo con piombo con un bracciolo pescatore quindi che pesca poi sotto il piombo questo è un bel 180 grammi guardiamo qua da 180 grammi un bel piombo allora vi ho parlato del moschettone moschettone uno dice ma cosa c'è dentro il moschettone dentro il moschettone c'è un altro tubettino termorestringente il più piccolo che trovate eccolo qua lo infilate dalla parte di qua ne basta un pezzetto da tre centimetri tre quattro centimetri al massimo lo scaldate in modo che vada a finire sulla l'angolo qua dove poi mettiamo il filo cosa succede se noi prendiamo ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho se noi prendiamo un terminale eccolo qua che noi dove ci attacchiamo il piombo vediamo che il filo diamo un po eccolo qua il filo ora qua c'è il baffetto lungo vabbè poi battagliato comunque che il filo della dell'asola del nostro terminale va a toccare quindi va a fare presa sul tubetto quello che abbiamo messo termorestringente e quindi a questa maniera qui anche in fase di sbilancio come noi diciamo in gara anche in fase di sbilancio riusciamo a evitare delle lesioni che può provocare il ferro dell'acciaio del moschettone del del moschettone direttamente sul filo questo è un piombo praticamente da gara finito eccolo qua quindi perfetta rotazione perfetta con la girella tripla senza nessun problema ricordiamoci bene che il piombo sott'acqua non gira il piombo gira quando lo appoggiamo in barca riesce a scaricare se no altrimenti non gira cioè leviamoci dalla testa che uno dice il piombo sott'acqua gira il piombo non gira il piombo sta bello fermo un bulonato quando poi lo tiriamo su in barca e lo appoggiamo se la madre ha preso delle torzioni riesce a scaricarlo però di più di tanto non può fare piombi eccoli qua abbastanza grossi ai uso da 130 che questo qua 130 150 180 e poi naturalmente 200 250 a seconda delle combina delle condizioni che troviamo in mare quindi a quel punto abbiamo detto che occorre pochissimo per fare la modifica di un piombo da volentino se uno vuol fare un piombo che vuole che aggirare diciamo e ha un classico piombo con l'anellino inox e girelli triple split girella con moschettone e termo restringente non serve altro una cosa molto importante uno mi può dire ah ma io mi prendo già un piombo io mi prendo già un piombo che non ho qui a portata di umano da farvi vedere però ve lo spiego io mi prendo un piombo con la girellina fusa dentro basta che ci metta il moschettone allora sì vero uno lo può fare però ci sono dei pro e dei contro allora uno lo può fare innanzitutto è molto più semplice perché lo trova già in commercio con la girellina fusa all'interno del piombo però cosa succede innanzitutto queste girelline che noi troviamo fuse nel piombo sono delle delle girelle classiche e non delle triple attrinino come quelle che vi ho fatto vedere io cioè queste qua che hanno e garantiscono una completa rotazione a quest'altra maniera invece e abbiamo un semplice una semplice girellina e io la volevo far vedere però niente qui intorno non c'è no mi dovrei alzare niente e vi dico una normale girellina che è fusa qui dentro fusa come è fuso quest'anello è fusa la girellina quindi cosa succede se noi e con il passare del tempo tanto lo sappiamo proprio è normale piombi non è che si sciacquano con l'acqua dolce tutte le volte ogni tanto può capitare io no però può capitare che qualcuno che ha più cura anche nella minuteria oltre che nell'elettriciatura principale canna e mulinello magari se lo lava e gli dura un pochino di più però il salmastro la salsedine o cavolo un altro questa girellina fusa dentro il piombo a lungo andare prende l'ossido e si rompe e si rompe a quel punto lì voi il piombo lo prendete e lo buttate o lo fondete per farne altri se uno ha l'obbide fai da te perché a quel punto lì il piombo con la girellina fusa dentro non è più riutilizzabile a questa maniera nel caso la nostra girella tripla o il nostro moschettone si dovesse in questo caso qua eccolo qua si dovesse ossidare qualsiasi cosa di tutto quello che ho qui io non faccio altro che toglierlo mi ritrovo il mio anellino inox inox quindi in perfette condizioni e non faccio altro che sostituire tutto quello che io ho messo in precedenza a questo punto qui io ho il mio piombo utilizzabile senza nessun problema perché se uno considera anche quanto costa un piombo insomma deve guardare un attimino al alla lunga conservazione della della minuteria ragazzi ci sentiamo alla prossima diverse visualizzazioni per essere a quest'ora qua è una diretta senza essere preannunciata è tutto ci sentiamo con la speranza di tornare a pescare dopo il 4 di maggio io la mano sul fuoco non ce la metterei e anzi vorrei 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 dire una cosa io ormai la devo dire perché è proprio stamani sul nostro gruppo dell'oltrarno colmice c'è stata questa mini discussione del fatto della lettera che ha fatto la federazione della fipsas riguardo al all'entrata in pesca alla richiesta di permesso per poter tornare a pescare con quel discorsetto di alternazione che non si è capito niente cioè cosa vuol dire Ugo Matteoli ci sa una bella confidenza io e te lo sai nonostante tu sia pisano io ti stimo però scusami è come si può pretendere che uno vada a pescare il lunedì quelli che hanno il cognome a b e c il martedì quelli che hanno d e f e così via mi sembra un pochino così messo inventato per aria domani sera ci dovrebbe essere una diretta comunque proprio con Matteoli che spero spieghi un attimino questa situazione ho visto c'è Gabriele Tubertini c'è diversi personaggi c'è sempre ruscelli della fips che dovrebbe presiedere questa diretta e penso che sia una cosa abbastanza interessante anche da seguire però ecco io dico Sto alternarsi in base alla lettera iniziale del proprio cognome mi sembra un po' un po' forzata la cosa numero uno perché c'è chi lavora e quindi per dire se uno gli tocca il giovedì che lavora allora io quando ci vado a pescare il prossimo giovedì mi sembra un pochino tirata così spero sia soltanto come qualcuno mi ha detto Matteoli ha scritto qualcosa per quel momento doveva infiorettare il tutto speriamo che sia così Ugo io non lo so non lo so non voglio entrare in merito a una questione di cui forse è anche più grande di me quindi senza fare senza fare nessuna polemica speriamo di tornare a pescare al più presto anche in compagnia se un po' distanti l'uno dall'altro dai non parlo di gare ma perlomeno la pesca ricreativa che possa essere riaperta al più presto come possa essere dato il permesso a chi alla barca di andare alla barca ora e non ci si può andare io mi riferisco all'amico Marco Volpi di cui ho seguito la diretta l'altra sera io a Marco lo stimo Marco è una persona Volpi che dice sempre pane pane il vino al vino però ci sono modi e maniere di dirgli insomma non è che si può dire a uno falsificano l'autodicarazione dirgli che secondo te la barca affondava insomma bisogna bisogna prendere un po' un po' le cose vanno fatte un po' giustamente io capisco perché anche io ho la mia barca lì che ha un valore è una barca grossa l'ho lì fermo all'ormeggio ho chiamato un mio amico ormeggiatore e gli ho detto guarda mi vai a mettere in moto la barca per cortesia lui è andato lì me l'ha messa in moto e guarda poi mi ha detto comunque la barca è tutta a posto non c'è nessun problema comunque nel caso noi siamo lì vicini nel caso succede qualcosa vi si avverte senza nessun problema ecco quindi fare una un'autocertificazione che poi è un'autocertificazione dove uno firma quello che dice insomma cerchiamo di metterci le cose giuste e non facci prende tanto dall'euforia ormai tanto abbiamo fatto 30 nel senso che è due mesi fra poco che siamo in casa facciamo 31 c'è un'altra settimana o poco più intanto per sapere le direttive del governo cosa ci dicono o cosa non ci dicono ragazzi vi saluto a tutti ora poi mi guardo le domande che avete fatto e niente vi saluto a tutti anche senza starvi a scrivere però guardo le domande se avete fatto qualche domanda vi rispondo direttamente per chat ciao e buongiorno e saluto a tutti grazie grazie